Piano piano ci ricordiamo tutto, allora il record fu fatto all'epoca da Donatella Lungarini Mauro, Mauro Il secondo lancio è buono, buono il secondo lancio Siamo arrivati a una misura intermedia, quindi da ora in poi il gioco si fa più duro Ecco le ultime indicazioni e gli ultimi accordi che vengono presi dai miei concorrenti per come effettuare il lancio Preso anche il terzo lancio dalla fonte di San Vincenzo La mia corna è tua, la di plastica Ecco Fabrizio si è posizionato Ecco anche il quarto lancio è dato a buon fine Anche la fonte di San Vincenzo sta raggiungendo una distanza considerevole E ora Sandro si appresta a fare il quinto tiro e vediamo se anche questo lancio riuscirà a far arrivare nelle mani di Fabrizio l'uovo senza farlo rompere Si è rotto l'uovo, è sfuggito dalle mani E la città di San Vincenzo sta aggambi Un po' di Signora è sfuggito di San Vincenzo ını nonni Grazie a tutti.